Ciao amici di BD Media, facciamo il punto della situazione della settimana politica. E' iniziata la prima fase di voto delle primarie del Partito Democratico. Infatti, dal 3 al 12 febbraio, iscritti al Partito Democratico, si riuniranno nei circoli locali per discutere le candidature e i programmi presentati e infine per votare il candidato o la candidata ritenuta migliore. A contendersi il ruolo di segretario sono Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, Ellie Schlein, ex vicepresidente dell'Emilia Romagna e ora deputata del Partito Democratico, Gianni Cuperlo, presidente merito del Partito Democratico e Paola De Micheli, ministra delle infrastrutture e dei trasporti nel governo Conte II. Da questa prima fase elettorale, dedicata esclusivamente agli iscritti, i primi due candidati si sfideranno al ballottaggio del 26 febbraio attraverso un sistema elettorale aperto anche ai non tesserati. Secondo gli ultimi dati dalla redazione di BD Media, sembrerebbe essere in testa Stefano Bonaccini e subito a seguire Ellie Schlein. Quindi sembrerebbero non esserci dubbi che i due si sfideranno al ballottaggio.